L'operazione Mare Nostrum, la Lega ha sempre detto che è stato un fallimento, forse adesso finalmente l'ha capito anche il Ministro Alfano? Sì, stamattina praticamente a denti stretti ha ammesso che i mezzi della Marina Militare non sono altro che una flotta di traghetti sul quale si imbarcono clandestini e sedicenti profughi per venire in Italia dove nel nostro territorio trovano dei benefit che neanche gli italiani hanno. Peraltro ha parlato anche di altro rischio che la criminalità organizzata si approfitti di Mare Nostrum con la tratta degli schiavi e quindi smentisce se stesso visto che a ottobre quando ha presentato Mare Nostrum ha parlato di operazione con effetto deterrente sugli sbarchi e sulla criminalità organizzata. Quindi benvenga anche se ritardo il Ministro Alfano, a questo punto gli suggeriamo di chiudersi in una stanza con la collega Minotti, Ministro della Difesa in modo tale che possano indirezzare le navi della Marina Militare sulle coste dei paesi del Nord Africa per bloccare le partenze. Grazie.